Fattoria didattica di Jump City! Abbiamo tanti animali per voi da imbrattare con le vostre manine sporche! Abbiamo un maiale, un cavallo, un cervo, un orso, un cassoro, un cane, un cane diverso! State cercando qualcosa di più esatico? Abbiamo una giraffa, un elefante, un rinoceronte, una scimmia e un gorilla cattivo! Ma non finisce qui! Non ancora! No! Abbiamo uno spaventoso tirrox, un optardacchio, un triceratopo, un miceratopo! E non scordiamoci del Brontosauro! E non credete che abbiamo un serpente con la testa di gallina? Un cosa? Ma vi sbagliate! Abbiamo un serpente con la testa di gallina! Abbiamo tutti i tipi di abomini adorabili da toccare con le vostre dita grassocce!